I migliori metodi per misurare i fenomeni meteorologici e i cambiamenti climatici sono stati al centro delle giornate di studio che hanno riunito tra Torino e Stupinigi scienziate e scienziati provenienti da tutto il mondo in occasione della quarta conferenza Meteorology for Meteorology in Climate organizzata dal LIRRI, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. È in questo contesto che è stata inaugurata la prima stazione climatologica di riferimento italiana ospitata all'interno del Parco Naturale di Stupinigi. Siamo in presenza della prima stazione climatologica sul territorio nazionale. Fa parte di una rete molto ristretta, una rete di una ventina di stazioni selezionate in tutto il mondo. Queste stazioni servono per misurare i dati, le variabili essenziali per comprendere il clima con una accuratezza, come diciamo noi, in metrologia di altissimo livello. Cioè tutti gli strumenti che vanno a comporre questa installazione sono al massimo livello di quello che la tecnologia oggi ci permette di installare per osservare l'evoluzione del clima. Con questo tipo di installazione noi lasceremo alle prossime generazioni dei dati molto molto più robusti con cui comprendere in maniera più fina cosa sta succedendo al nostro clima. La stazione sarà gestita dal NINRIM e dalla Società Meteorologica Italiana. Parliamo sempre di dati di temperatura in tutto il mondo, i record, mai stato così caldo, mai raggiunto le temperature in certe stagioni. Avere una stazione meteorologica in un parco cittadino è un modo per far vedere alle persone da dove nascono questi numeri. permettono di fare cultura generale per capire come funzionano dei dispositivi di misura moderni e performanti ma permettono anche poi di entrare nel merito del gigantesco problema dei cambiamenti climatici che sono non soltanto un tema scientifico ma un tema che tocca la nostra vita, la nostra qualità di vita. Il sito ha anche una spiccata connotazione divulgativa grazie a una nuova installazione didattica voluta dal comune di Nichelino. Si tratta della prima aula didattica all'aperto interamente dedicata ai cambiamenti climatici. Questo spazio all'aperto in questa oasi naturalistica del parco di Stupinigi vorremmo da qui in avanti ospitare davvero centinaia, migliaia di studentesse e di studenti che sedendosi proprio qua tra questi alberi potranno leggere in autonomia i pannelli esplicativi che raccontano il cambiamento climatico ma potranno soprattutto provare a ragionare attorno appunto al cambiamento climatico. In particolar modo come città di Nichelino quello che faremo sarà sviluppare progetti di peer education ovvero i giovani per i giovani racconteranno questi dati di cui abbiamo parlato e racconteranno soprattutto l'impegno necessario per un futuro diverso e soprattutto per un pianeta che sia sostenibile e accogliente per la specie umana e per tutte le specie. E stazioni climatologiche come queste ci possono fornire appunto la solidità scientifica per poter avere anche un po' più coraggio perché ormai è evidente a tutti che questo è l'unico pianeta che abbiamo solo più sette anni di tempo per poter intervenire e soprattutto che non esiste un pianeta B. Tra i primi ad utilizzare quest'aula gli studenti dell'Istituto Erasmo da Rotterdam di Nichelino. C'è stata presentata quest'aula didattica in una conferenza in cui appunto abbiamo affrontato i temi del cambiamento climatico e poi la risposta più grande è stata appunto che con una stazione come quella si possono effettivamente registrare tutti i cambiamenti climatici e quindi con l'analisi dei dati si può arrivare a trovare una soluzione.